SECO! SECO! Eh? A SECO? Poi venire a giocare a carcetto, ce manca uno? Eh no, mannaggia, me lo dici così all'ultimo momento, un posto devo andare al Coccinsia da una parte. Ah beh, che devi fare a Coccinsia? Dai, ce manca uno per giocare a carcetto. Eh, nazza, se me lo dicevi prima, il carcetto è 5-5, a me il naggia mi diverte. No, devo fare una cosa a Coccinsia assolutamente. Ah beh, che devi fare a Coccinsia? Eh, guarda, c'è un appuntamento da un sacco di tempo, ma... Però se mi è richiamata la settimana prossima, io ci vengo. Che cosa devi fare con Coccinsia? Ah, eh... Eh, devo andare a accompagnare a vedere le maglioliche per bagno. Le maglioliche per bagno. Eh beh, che te frega, mannaggia lei e te vi a giocare a carcetto. Eh no, non posso, dai. Eh, ah, c'hai paura che te strilla, eh? Che me strilla se c'è, mi madre me strilla. Io faccio le cose con lei perché mi piace fare le cose con lei. Sto dieci anni che stiamo insieme, siamo uguali e ci piacciono le stesse cose. Ah, chi sei uguale? Che stai a dire? È un modo di dire, siamo uguali, ci piacciono le stesse cose. Ma che cosa dici? Che sei uguale a una femmina? Quella è una femmina che sei uguale a una femmina, te. Ah, ma perché te ancora stai maschi? E fai guarda che non siamo mai stati uguali. Che stai a dire? Ma come noi da ragazzini giocavamo a soldatini. E allora mamma e figlia eravamo uguali. Scusa, quando noi giocavamo a soldatini, che pensavamo? Che è quello che volevamo fare. Diventa grandi per comprarsi il cavallo e i pistole, mettersi il cappello e annacca amici a cercare indiani. Poi abiti a San Giovanni, ci mando vai. Mentre loro, le ragazzine che giocavano a mamma e figlia, capiscono che col passare del tempo, quel gioco si può fare davvero. E allora a un certo punto vengono date versi di 27-28 anni e ti fanno, certo, boh, a me mi sembra che il nostro rapporto è un po' inconcludente, mi sembra che forse ci dovremmo prendere le nostre responsabilità. Io non lo so, ma boh, forse un figlio. Io serve il complice, no? Io serve il complice per continuare a fare quel gioco. E fino a che non lo trovano spontaneo, lo solo cercano, capito? Tanto ti osservano. E tu che hai giocato tutta l'infanzia a soldatini, non lo sai manco te perché sei decoccio. Ma hai cambiato, no? Hai cambiato il gioco. E gioco con i soldatini è diventato il carcetto. Con gli amici, con i quali ogni tanto capita pure che fai a cocommerata e al chioschetto, quante volte è successo. Analizza. Da cosa nasce tutto? Tutto da un semetto piccolo. Tu stai lì a mangiare il cocommero, vicino a un amico tuo per fare lo spiritoso, ti esplica addosso al semetto. Quello reagisce però, esagera, perché in quel momento è come se tornasse Pischello e gli scoppia dentro una bomba d'allegria. E allora il lancio della goccia del cocommero non faccia quell'altro. Beh, diventa un gesto poetico quasi. Solo che se te vedi una donna, te dice, anzi no, o pensa ma non te lo dice, fa, ah, ma bene, questo che deve essere? Il padre di mio figlio. E che gli insegni a fare? Con il cocommerato archioschetto, sai che bello acquisto che fa? Tu capisci e cambi. E ammetti che in effetti giocare a soldatini è immaturo, certo. Mentre è immaturo gioca anche le bambole. E allora ci vai a vivere insieme e compri le tendine, le piattine, le porchettine, le tovagliette e poi frequenti gli amici della coppia. E chi sono gli amici della coppia? E coppie? E basta? Sì. E perché sono i singoli? Perché? Sono dispari come gli apparecchi, è un casino, ma io no. Vabbè, insomma, chi viene a cena stasera? Vengono micio e micia, un'altra volta. Chi gli fanno da mangiare a micio e micia? No, so, amore mio, vieni, andiamo a giocare con il dorso e forno, qualche cosa si inventiamo. Ti metti lì e cominci a giocare a Cabilancetta di Presina, a Tazzine, poi dici, dindon, chi è? Micio e micia. Eppure prima arrivano. Vabbè, gli fai entrare, gli metti a qui e dai a Tazzine, i bicchierini, il caffiuccio, i cucchiaini, e poi ti metti sul divano e gli fai vedere un'ora e mezzo di registrazione video del Battesimo del Pupo, un'altra ora e mezzo di registrazione video del Viaggio delle Nozze, boom! Buttati tre ore, allessati sul divano, dentro st'enorme casa di Barbie, cucchiai, e piano piano, capisci, e piano piano allenti col carcetto. Se prima ci andavi due volte a settimana, poi ce ne vai una, poi non ce ne va più, poi dici, eh, ma come faccio a venire a giocare a carcetto? Non posso, devo andare a cucinzi a fare una cosa. e martedì come faccio? Te vanno a vedere le maioliche per bagno. Ma te rendi conto? Ma che te frega a te delle maioliche per bagno? No, ma dico proprio dentro a te, che te frega? È chiaro che è in gioco suo, è una cosa che piace a lei, non è una cosa che... Oh, se no, guarda, dimmelo chiaramente, a me non mi va più di giocare a sordatini perché mi piace di più giocare a che bambole, mammo, devi guardare nell'occhio perché non è vero che tu e Cinzia siete uguali e che ha vinto lei. In che senso? Eh, in che senso? Tu fai le cose che piacciono a te o fai le cose che piacciono a lei? Non lo so. Cioè, cose che piacciono non lo so. Cioè, cose che piacciono a me e cose... non lo so. Cioè, a me qualcosa mi piace, ma forse sì, è vero che piace più a lei. Non lo so. Non lo so. Non lo so.